Una vera e propria rivoluzione della viabilità cittadina, quella che l'amministrazione sta predisponendo per tutto il territorio portoferraiese. Partendo dal centro storico, qui dal 20 ottobre riaprirà il traffico in piazza Cavour. Dal fornice di ingresso nella piazza sarà quindi possibile girare a sinistra, uscire dal secondo fornice verso la calata o andare dritti fino al Bar Roma e da lì verso via Guerrazzi in uscita. Resta inalterata la viabilità attuale che porta al parcheggio in piazza della Repubblica o che permette di girare a sinistra prima del parcheggio per tornare verso il palazzo comunale. In piazza Cavour saranno predisposti nuovi parcheggi a pettine e resta a pedonale soltanto via Cavaliere di Vittorio Veneto. La calata Mazzini resta a doppio senso di circolazione. Per l'incrocio delle ghiaie, Adalberto Bertucci, assessore alla viabilità, ha annunciato la realizzazione di una rotatoria per agevolare il traffico. Nuovi passaggi pedonali in sicurezza sono stati pensati per via Carducci e via Manganaro, così come a Concia di Terra e a Carpani. Gli attraversamenti pedonali, oltre che da una decisa segnaletica orizzontale, saranno segnalati anche da dissuasori e da luci posizionate appositamente per la sicurezza dei pedoni. Anche la viabilità portuale subirà variazioni, resta inalterato il senso unico di Calatetaglia, ma è prevista una nuova rotatoria alla base del Molo Massimo e la realizzazione di quella definitiva al posto del semaforo. Due opere in carico all'autorità portuale, che dovrebbe terminare i lavori già entro il prossimo mese di novembre. Nuova rotonda anche all'inizio di Viale Elba, di fronte alla caserma dei Carabinieri, con l'istituzione del senso unico per tutto il Viale Elba, fino alla rotatoria di ingresso al porto. E allo studio anche una rivisitazione della viabilità della Consumella, ora a senso unico da Capobianco fino al cimitero. Così come sono allo studio modifiche alle due maxi rotonde, quella di fronte al cantieri Esaum e quella a concia di terra. Altra novità è prevista per Carpani, dove sarà istituito il senso unico in uscita verso la sghinghetta. Stiamo valutando anche, ha annunciato l'assessore Bertucci, la possibilità di prevedere dalla variante che costeggia Carpani un ingresso direttamente al parcheggio presso i giardini. Nuova rotatoria anche in uscita da Carpani verso Procchio, vicino alle scuole, all'incrocio con Valle di Lazaro e poi, come più volte, ha annunciato dall'assessore la nuova rotatoria al posto dei semafori di San Giovanni, su cui la provincia ha già pronto un progetto. Servirà ad agevolare il traffico e ad abituare gli elbani ad una guida sicura, andando verso la normativa europea, ha commentato Bertucci, che ha annunciato anche il senso unico da Viale e Inaudi fino all'incrocio di Capobianco nei mesi estivi. Particolare attenzione riservata alle scuole, dove sono previsti attraversamenti pedonali in sicurezza, con file di dissuasori che limiteranno la velocità. Questa amministrazione ha scelto di mettere davanti a tutto la sicurezza dei pedoni, perché noi abbiamo fatto una scelta, ci siamo messi al tavolino, abbiamo verificato che in alcune zone ci sono grossi rischi e pericolosità per i pedoni, quindi andremo, come avete visto nel progetto, a toccare diverse zone di Porto Ferraio. Queste zone vengono toccate per mettere tutto in sicurezza, in prima persona sicurezza dei ragazzi, quindi davanti alle scuole, davanti a tutta una serie di modifiche sul territorio, sulla viabilità portofalese, sarà dedicata alla sicurezza. Questo secondo me è una cosa molto importante. È chiaro che gli uffici e noi dobbiamo mettersi al tavolino per verificare anche i costi, che non saranno sicuramente bassi, però dovremmo trovare il sistema di ottemperare a questa cosa e portare avanti il nostro progetto. Un progetto ambizioso perché il progetto è abbastanza grosso, però forse con l'aiuto anche dei contributi regionali, contributi a livello europeo e per la sicurezza innanzitutto potrebbero anche riuscirci.